amici sportivi per l'angolo rosa oggi siamo qui con ginevra fidanzata di Michele Porcelli e qui diamo il benvenuto ciao Germano allora cominciamo a conoscere qualche curiosità tra te e Michele che ripeto è il fidanzato partiamo innanzitutto quando è che hai conosciuto Michele? Michele l'ho conosciuto a gennaio di quest'anno quando è venuto a giocare nel Villafranca come ha fatto a conquistarti? Allora le prime volte l'ho notato alla cena di natale e durante le cene poi del giovedì sera mi sedevo sempre a fianco a lui per mangiare il dolce e quindi parlando così poi il suo sorriso mi ha conquistato. Qual è il regalo più bello che ti ha fatto da quando siete fidanzati? Da quando siamo fidanzati il regalo più bello è stato questo anello me l'ha regalato a maggio quando poi ci siamo messi insieme. Un desiderio ginevra se vincesse il campionato il Villafranca dov'è che vorresti che ti portasse Michele? Da quando ci siamo conosciuti ci siamo promessi che per il suo 23esimo compleanno saremmo andati a Cuba quindi se vincesse il campionato mi piacerebbe andare a Cuba con lui. Che cosa ti piace di più in Michele come uomo? È un ragazzo fantastico non lo dico perché è il mio amoroso ma davvero è sempre disponibile con tutti molto gentile socievole quello che mi piace più di lui è che mi dedica molta attenzione soprattutto protettivo qualche difetto c'era anche lui ovviamente però è molto attento ad ogni particolare. E invece ginevra quello che ti l'aspetto che più ti fa arrabbiare di Michele? Siamo entrambi molto permalosi però credo che lui sia tanto tanto permaloso e quindi è questo che ci fa litigare a volte. L'ultima domanda a Ginevra le emozioni che hai provato la prima volta che l'hai visto giocare in campo? La prima volta che l'ho visto giocare in campo l'avevo già visto precedentemente giocare però come come amico e la prima volta è stata molto emozionante anche perché non ci credevo che potesse essere mio fidanzato in campo a giocare per la nostra squadra per il Villafranca. Bene ringraziamo Ginevra per la disponibilità e per questa anche battesimo della nuova rubrica all'angolo rosa in cui nel corso dell'anno andremo a intervistare fidanzate dei giocatori moglie simpatizzanti e un po' tutto anche l'angolo femminile. Grazie ancora e complimenti di Ginevra. Grazie mille a te.